Mister, il risultato secondo te è Bugiardo, qual è la tua analisi di questa partita? Bugiardo, non Bugiardo, tre gol sono tanti, mi dispiace per quello, vogliamo fare un'altra partita in casa, commettiamo degli errori, li paghiamo cari e sarebbe il caso di cominciare a commettere meno errori. Adesso, al di là di dirlo, poi vi sarà dimostrato sul campo. Difficile aspettarsi un epilogo così, perché il Verona aveva iniziato a partita molto bene, mettendo in difficoltà il Torino, un episodio ci è costato carissimo. Vedo che mi è iniziato bene, avevamo voglia, abbiamo fatto un errore, abbiamo preso il gol, poi è chiaro che nell'intervallo la partita è ancora lunga, abbiamo dimostrato di poter rimontare tante partite, dopo quattro minuti già 2-0, quindi a punto di vista anche psicologico non è mai facile, è sempre facile da fuori, da dentro vedevo che volevano fare eppure si trovavano 2-0. Abbiamo avuto una reazione buona e credo che avremmo potuto tenere l'aperta fino alla fine, poi insomma hanno colpito ancora in contropiede, loro è una squadra che gioca, soprattutto questo tipo di calcio. Magari eravamo bravi anche noi a fare questo gioco, quest'anno non è così e loro hanno vinto una partita importante. Adesso si va a Genova, cosa vuoi vedere di diverso? C'è qualcosa nel tuo Verona per tornare a fare i punti? Secondo te cosa dobbiamo ancora migliorare? Beh, innanzitutto dobbiamo commettere meno errori, perché la Serie A è così, se sbagli qui non perdono, quindi in questo momento ci stanno penalizzando tanti errori, però al di là di questo, al di là di l'errore che ci può stare in una gara, mi interesserebbe ritrovare il risultato, la squadra ha bisogno di trovare risultati, non viene così dal cielo, bisogna andarcela a prendere, quindi dovremmo fare di più per andare a prenderlo. Ti preoccupa la classifica? Innanzitutto le altre non hanno giocato, magari le altre perdono domani, quindi la nostra classifica non cambia, quindi oggi è toccata a noi, magari domani tocca agli altri, quindi al di là di chi tocca, tocca, adesso dobbiamo cercare di migliorare noi e cercare di commettere meno errori, perché in questo momento qui credo che gli errori ci stanno un po' penalizzando. Cosa ci è mancato oggi? Cosa ha avuto il Torino in più? Il Torino ha messo la partita come voleva, andando in vantaggio, sono così, su una casualità, è chiaro che loro nel contropiede sono una squadra micidiale, giocano di quello, il Torino viene da tre vittorie consecutivi, quindi andavamo a contare, sicuramente una squadra difficile, lo sapevamo, abbiamo preparato anche la partita bene, però come detto poi le partite si mettono in una certa maniera, quindi 2-0 ha cambiato un po' tutti i piani e poi insomma abbiamo avuto anche una relazione in generale e non mi dà male l'impressione che questa squadra volesse fare bene, aveva tutto, però commettiamo degli errori, in questo momento non possiamo permetterci, dobbiamo limitarli al massimo. Penso che dispiace tanto anche per i nostri tifosi che oggi c'erano come sempre. I tifosi ci sono sempre stati, ci saranno sempre, quindi è normale che ci sia tanta delusione, adesso fuori, abbiamo avuto tanti momenti felici, adesso è un momento in cui dobbiamo soffrire, ma credo che sia importante soffrire tutti insieme, perché solo così se ne può uscire insieme. Grazie mister.